Possiamo dire che è una grande Inter o qualcuno si lamenta, qualcuno ha qualcosa da ridire? Diciamo che è una grande Inter perché una grande squadra sa anche soffrire il giusto. Stasera abbiamo sofferto il giusto e siamo stati assolutamente efficaci in zona gol. Bisogna anche dire per correttezza che il Napoli ci ha fatto praticamente segnare tre gol a porta semivuota perché il primo gol è uno scivolone di Di Lorenzo, strada libera per Lukaku. Il secondo gol Meret se la butta in porta, il terzo gol scivola Manolas. Però sono tutti errori che sono stati causati da una pressione dell'Inter e comunque da uno sforzo positivo dell'Inter. Cioè abbiamo fatto un gran pressing e abbiamo anche creato delle occasioni tutto sommato con la quadratura di squadra. Mettiamola così, va bene? Per essere diplomatici. Questo significa che la squadra c'è. Ragazzi, si vede che l'Inter è una squadra finalmente. Si vede da tante piccole cose, oltre al fatto che tutti sono per lo stesso obiettivo, le solite cose, ma sono proprio ordinati in campo. Cioè proprio si vede la mano dell'allenatore che mette a posto le cose. Beh, arrivando però all'analisi della partita o anche a qualche parola sui singoli, oggi non possiamo non dire qualcosa su qualche singolo. Pro e contro. Partiamo dai pro, cioè dalle cose belle. Lukaku. Lukaku, partita molto 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 buona di Lukaku. Non ha praticamente... ha sbagliato pochissimo, chi mi ricordi, qualche stop, ma voglio dire ha fatto invece la partita perché è stato determinante nei suoi gol. Perché quelli, sì, è vero gli errori del Napoli, ma Lukaku quando può andare a campo aperto è devastante. L'abbiamo sempre detto, quando ci sono questi tipi di partite Lukaku o lo butti giù con qualche mitragliata, altrimenti veramente va in porta ed è veramente forte, devastante, ha potenza, eccetera, eccetera. Quindi queste sono veramente le situazioni che fanno per lui e si vede, fa la differenza. Detto questo, poi se vogliamo dare una critica a qualche giocatore che non mi è piaciuto molto, devo dire i due esterni di centrocampo, quindi i due quinti. Candreva soprattutto nel primo tempo ha perso tanti palloni e non recuperava la posizione su Insigne mai. Ero sempre lì che volevo strozzarlo perché Insigne in contropiede soprattutto partiva a campo aperto un po' libero. Invece bisognava che Candreva, siccome c'è la superiorità numerica nostra, lo seguisse anche all'interno del campo. Infatti, cosa che dopo Conte gli ha detto, infatti Conte è uno che capisce le cose, e gli ha detto proprio esattamente stareva qua. Cioè, bisognava che uscisse un po' dal suo blocco esterno e seguisse in mezzo al campo il giocatore del Napoli. Nel secondo tempo ha fatto meglio, infatti si è un po' regolato. Biraghi. Biraghi, ragazzi, non è che abbia fatto chissà che, che errori, cose strane. Semplicemente Biraghi è quello che conosciamo, è un giocatore, secondo me, da mezza classifica. È un giocatore che l'Inter dovrebbe anche starci, ma fare la riserva praticamente e giocare qualche partitina. Invece, purtroppo, per infortuni vari, ormai è il titolare in quella fascia. E a volte si vede che non ha la personalità adatta, cioè che non ha quel qualcosa in più. Che è un giocatore banale, è un po' il gagliardini degli esterni. Nell'occasione del gol si perde lì l'uomo perché alza la mano lamentandosi del fuorigioco senza pensare che è l'unico, l'unico in quell'azione a poter contrastare il giocatore del Napoli. L'unico. E quindi lui, invece di perdere tempo a lamentarsi, alzare la mano, chiamare fuorigioco, doveva innanzitutto preoccuparsi del giocatore e andare a contrastarlo. Perché nessun altro della difesa dell'Inter avrebbe potuto rientrare in tempo su quell'azione. E quindi Biraghi ha perso quel mezzo metro di tempo, palla al centro e, bella che fatta, siamo andati, non sotto, siamo stati recuperati, si è riaperta la partita. Vabbè, poi l'abbiamo richiusa per carità, va bene, perché l'Inter di Conte, ok. Forse è stato con Spalletti, l'avremmo riaperta e saremmo andati a casa col pareggio, come minimo. Detto questo, altra cosa positiva. Vessino. Vessino, ragazzi, lo so che non è un giocatore appariscente, lo so che non è un giocatore neanche di grande qualità, secondo me, ma è un giocatore funzionale e soprattutto è una mezzala. Cioè, non è una cosa scontata. È un giocatore che gioca nel suo ruolo ed è una mezzala pura. Alla Conte, va benissimo. Un giocatore che fa, non è che faccia legna, è funzionale. Punto. Lui sa benissimo fare gli inserimenti in area, quindi arrivare di testa, concludere, il tempismo è. Oppure, se non li fa per concludere, li fa per fare gli assist. Cosa sono gli inserimenti da mezzala? Sono quelli che praticamente dal centro lui taglia, giusto taglia, sull'esterno, ok. Taglia largo, va a prendere il pallone oltre all'esterno, dal centro allargandosi, per poi buttarla in mezzo. Questo è il terzo gol dell'Inter. Tipico di Vessino, anche questa qua è una giocata alla Vessino. Vessino ha queste tipo di giocate qua. Non saranno belle, non saranno col tacco, le cose, ma sono cazzutamente funzionali. È così anche che vinci delle partite, perché Vessino questa giocata l'ha fatta, forse vi ricordate, il derby con il Milan? La palla che arriva a Icardi, che Donnarumma buca, quella è la stessa roba, Vessino, lo stesso cross, lo stesso inserimento esterno, che poi va a buttare questa palla molto bella dentro. È molto bella perché Vessino parte indietro rispetto al difensore e riesce comunque a dargli il giro per aggirare la difesa e arrivare a mettere pressione al difensore centrale. In quel caso lì la sbaglia Manolas, però la palla è indirizzata molto bene, crea pericolo. Quindi molto bene Vessino. Poi, ecco, un'altra cosa positiva, Sensi e Barella. Non per quello che hanno dato in campo, perché si vede che non stanno ancora bene, sono entrati un po' così, però è una cosa positiva che abbiano giocato, che siano rientrati, che abbiano messo su qualche minutino, perché si vede che sono stati fuori ma parecchio tempo. Cioè si vede che non sono... hanno le loro qualità ma sono sotto ritmo. Cioè si è visto l'entrata, si è visto che insomma non reggevano completamente il campo. Ecco, quindi molto bene per il loro rientro. Vediamo se c'è qualcosina che mi sono appuntato. Di Biraghi ho già detto prima. Lukaku, ragazzi, ho già detto... ecco, diciamo anche una parola su Lautaro per Parcondicio. Lautaro oggi è venuto... ha fatto meno spettacolo del solito, però è stato molto funzionale anche lui. Diciamo che nel primo tempo si sono invertiti un po' i ruoli, no? Lukaku è quello che ha usufruito dei filtranti, delle palle buone, eccetera. E Lautaro è quello che ha fatto più battaglia, che ha fatto più lavoro sporco. Si sono invertiti un po' il ruolo, però sono funzionali entrambi. Sono giocatori che comunque si completano. Poi più che altro è Lautaro. Lautaro è molto versatile e quindi qualsiasi punta con cui possa giocare ne trae beneficio. E Lukaku in queste partite poi, ripeto, che è veramente devastante, perché in campo aperto e se Napoli ci faceva la partita come ha provato a fare, nel momento in cui la perdevano, contropiede, e non ce n'è per nessuno. Lì mi è riuscito in mente il calma, calma di Adani, perché a quell'azione era uguale, eh. Cioè, di Lorenzo e verde palle, praticamente, cioè, similissima all'azione col PSV, forse era, no? Su quel PSV. Vabbè, comunque, ragazzi, sono contento dell'Inter, che finalmente è una squadra compatta e che, soprattutto, non perde punti. E, ah, tra l'altro, ragazzi, contro il San Paolo, cioè, al San Paolo, contro il Napoli, come ricordavo prima della partita, noi non vincevamo in campionato, perché qualcuno mi ha detto, sì, ma in Coppa Italia, sì, ovviamente, io mi riferivo allo Scudetto, al campionato, ok. In campionato non si vinceva al San Paolo da 22 anni. Da 22 anni. Quindi, molto importante sta vittoria. D'altra parte, il Napoli, negli ultimi anni, per noi è stata un po' una, così, non so come dire, una disavventura, no? Ogni volta che andavamo per San Paolo, o c'era il Napoli, o era una perdita di punti, o succedeva qualcosa, o era un cambio della stagione. Insomma, ragazzi, partita decisiva. Poi, soprattutto con la Juve, che vince così in maniera netta, e mantiene la pista in prima, cioè, in prima posizione, e roba così, era importante non perdere terreno e tempo oggi. Cos'altro posso dire? L'unica cosa che io mi aspettavo, onestamente, ed ero lì al Varco, che avrei tanto voluto vedere, più che l'entrata di Borca Valero all'ultimo, che non mi interessava molto, sarebbe stato bello? Ditelo anche voi. Cioè, vi sfido. Siate sinceri, non vi aspettavate Alexis Sanchez? Cioè, giusto per vedere un attimo, cinque minutini se è pronto oppure no. Io lo sto aspettando, perché è un giocatore che, su cui puntiamo molto, cioè, puntiamo molto noi tifosi, non la società. Noi come giocatore, è un giocatore che ci piacerebbe vedere in campo, l'abbiamo visto poco, in quelle due o tre partite abbiamo pregustato dei colpi un po' del gran giocatore, e poi ci è mancato. Quindi io ero lì ad aspettarlo. Cioè, siate onesti, anche voi vi aspettavate il terzo cambio con Sanchez. Vabbè, comunque, tutto sommato, chi se ne frega, tre punti, va bene così. Prima di salutarvi, vi accenno che in realtà ho creato il secondo canale. L'ho creato, ma non è ancora attivo. Cioè, ho messo due test, dei video di test, sperimenti tecnici, diciamo così, ma devo risolvere qualche problema appunto di strumentazione. Se volete recuperarlo, vi metto il link sotto nei commenti da qualche parte. Comunque si chiama Hermes Podcast, o Hermes Messaggero Podcast, una cosa del genere. Quindi, casomai, l'ho beccata. Basta che scriviate Hermes Podcast, comunque, e l'ho beccata. Sarà attivo nelle prossime settimane. Mettiamola così. Intanto vi saluto, vi lascio, like al video, like per l'Inter, che veramente se lo merita, perché è una squadra che mi fa stare tranquillo, finalmente. E non siamo più abituati, quindi se lo merita il like. Comunque, ragazzi, ci vediamo prestissimo. Questa settimana ricomincieremo a parlare un po' di calciomercato. Intanto, forza Inter, e avanti così. Bella ripresa di campionato. Finalmente. Grazie.